Tre punti preziosi al di là della classifica. La Helios messaggeria Catania e Spugna Cisano Bergamasco e torna a vincere dopo sei gare di campionato e una di Coppa Italia. Una boccata d'ossigeno per gli etnei che nelle ultime settimane avevano perso lo smalto della prima parte di stagione. Il match in casa dei Bergamaschi però comincia in salita con i padroni di casa avanti per tutto il primo parziale, chiuso con un netto 25-17. Sembrerebbe l'inizio di un nuovo weekend di passione ma i catanesi nel secondo set trovano il giusto atteggiamento. Il volley Catania guadagna il vantaggio sul 6-8, poi accelera con Bonacic e Porcello sull'11-15. I Lombardi provano a rifarsi sotto sul 17-23 ma la battuta di Bonacic e il money out di Toselli segnano il 19-25 per Catania e la ritrovata parità. Nel terzo set le due formazioni lottano in sostanziale equilibrio, almeno per la prima parte. A produrre il primo strappo è Capitan Finoli con il diagonale dell'11-13. I siciliani allungano ancora fino al 15-23, arrivato grazie a due ace di Corrado e ancora lui a firmare il 18-25 che chiude il set in favore degli etnei. Nell'ultima parte di gara le due formazioni tornano a duellare in parità. Cisano lotta palla su palla per riaprire il match. Non è della stessa opinione però Bonacic che coglie una deviazione del muro per il 13-15. I due punti di break reggono fino al 18-20 in favore degli ospiti firmato da Toselli. I bergamaschi non tengono il ritmo e con un out in battuta consegnano una vittoria fondamentale ai catanesi. Gli etnei salgono così a quota 33 punti a meno 6 dalla zona playoff, il cui ultimo posto è occupato da Ortona a 39 punti. Le speranze playoff dei ragazzi di Cocepuleo rimangono quindi vive ma avranno bisogno di conferme gara dopo gara a partire dal match casalingo della prossima giornata contro Grotta Azzolina.